Quella sera mio figlio è stato sparato tre proiettili, altri due proiettili l'ha sparato all'amico che si è salvato, ne ha sparati cinque di proiettili questo ragazzo. E dico un'altra cosa, chi lo chiama carabiniere ancora nell'arma è un'offesa alla divisa di quello che ha fatto quella persona quella sera. Bisogna iniziare da fuori e dentro al processo a concentrarci sui fatti e il fatto è un omicidio. E questo deve essere sottolineato sempre, in ogni luogo, perché altre forze avranno esigenza di spostare l'attenzione su altri fatti. Questa è la prima cosa e noi dobbiamo sempre rimarcare che cosa è accaduto. E' morto un ragazzo e l'hanno sparato. Questa è la cosa principale. La seconda cosa molto importante su cui la nostra riflessione deve ricadere, la riflessione dei compagni ma soprattutto del quartiere che ho vivo, che è il vostro, è la tenuta dell'ordine pubblico. Che cosa significa ordine pubblico? L'ordine pubblico è una categoria vuota, può significare tutto e può non significare niente. Ed è giusto che noi lo riempiamo con i nostri contenuti. E i nostri contenuti devono essere la casa, il reddito, la scuola, le opportunità per i ragazzi, altrimenti all'interno di questa categoria, come loro la stanno facendo vivere, entrerà solo violenza e barbarie. E questo non ce lo possiamo permettere per noi e per il futuro dei nostri figli, che è la cosa principale. L'ultima cosa volevo dire che è una riflessione su cui penso dobbiamo concentrarci anche sul piano e sul pensiero che in realtà in città ha già preso piede più e più volte e attiene una cosa fondamentale alla formazione delle forze dell'ordine. Che cosa e chi entra all'interno delle forze dell'ordine? Quali sono le tecniche della tenuta dell'ordine pubblico nella nostra città? E soprattutto dobbiamo evitare che questo possa sfociare in atti di violenza. Per farlo dobbiamo pretendere che all'interno delle forze dell'ordine non entrano persone che sono in qualche modo attive alla violenza, perché questo non attiene alla tenuta dei nostri territori. Soprattutto in una fase delicata come quella che noi stiamo vivendo adesso, dove raccoglieremo ancora più miseria rispetto ai tempi del lockdown, che ancora non riusciamo a vedere le conseguenze e quante persone perderanno il lavoro, quante persone già l'hanno persa. Quindi all'interno delle nostre riflessioni deve assolutamente ricadere che cosa è per noi importante, quali sono le priorità per i nostri ragazzi e per i nostri quartieri e mantenere soprattutto alta l'attenzione sul processo e sui fatti che entreranno nel processo per evitare che l'attenzione sfoci su altre cose che non attengono al fatto principale, che è morto un ragazzo minoreno ed è morto sparato. Su questo ci dobbiamo concentrare. Ci dobbiamo far valere, si deve scendere in piazza per i detenuti, per chi viene ammazzato, per chi viene torturato, per chi viene oppeso. Dobbiamo scendere in piazza, è il tempo della piazza, tutti in piazza. Noi ci aspettiamo a giustificare la stessa mano, che oggi sono tanti figli nei nostri quartieri. Ma siamo voluti che l'unico modo per costruire un'alternativa, che un domani impedisca le tragedie così, ma vengono ancora, sia quella di costruire una resistenza quotidiana, che parte attraverso la lotta nei nostri quartieri. Siamo la zia di Ugo, mi devo dire agli amici di Ugo, riscattatemi, non date a questi criminali l'agio che vi possono uccidere e non pagare. Riscattatemi, fate del bene. Avete degli obiettivi buoni per Ugo, per la memoria di Ugo, perché siete tutti bravi ragazzi, non esiste un ragazzo di tutti i primi anni. E non tutti non possono usare l'interventura di Ugo, riscattatemi, sono questo. Il giorno dopo, all'omicidio di Ugo, nella nostra classe, i quartieri spagnoli, a Montecalvario, abbiamo fatto con i ragazzi un cerchio. Un cerchio che è durato cinque ore, in cui insieme abbiamo provato ad elaborare questa tragedia, questo lutto che aveva colpito gli amici, i ragazzi dell'età di Ugo che lo conoscevano e che gli erano vicini. E la cosa che mi ha sorpreso di più di quel cerchio è stato come questi ragazzini, molto più di tanti adulti, abbiano avuto la capacità di decodificare quello che stava succedendo. Ci sono alcuni palletti che quando vogliono il papone, l'ultimo papone, e invece vanno presi come primo papone per essere aiutati. Noi, è un'aggina di palletti.